La Camera di Commercio supporta IT 2024, la grande fiera della manifattura avanzata, quest'anno caratterizzata da un grande focus sull'intelligenza artificiale, proprio dedicata alle nostre filiere produttive. Grandi casi di applicazione vera e propria, una grande area oltre 1000 metri quadri, grandi dibattiti e la presenza delle nostre imprese e anche una grande opportunità per le nostre aziende di poter vedere dove si possono applicare queste tecnologie, dalla robotica all'automazione, ma quest'anno molta intelligenza artificiale.